Con molto piacere vi presento il mio collega professore Pierluigi Gallo che è professore presso l'Università di Palermo di Ingegneria Elettronica e Indirizzo Telecomunicazioni in particolare, ha fatto ricerca su reti wireless e più recentemente cyber security e blockchain in particolare e ci parlerà di blockchain per le comunità energetiche, il demand response questo progetto mi è anche molto caro perché sono attività che abbiamo portato avanti insieme quindi mi fa piacere dargli la parola. Ringrazio la professoressa Sanseverino tra l'altro giusto così per onore di cronaca, la professoressa Sanseverino è stata il responsabile scientifico di questo progetto quindi lei è sempre molto diciamo così discreta e però ha un ruolo chiaramente nel progetto che va anche oltre quello mio quindi mi fa piacere in questo caso ricevere questo token virtuale per prendere la discussione e quello però di cui parliamo in qualche modo per chi conosce anche un pochettino le edizioni precedenti nelle quali ho dato contributo è sempre un pochino diverso rispetto a quello che avevo pianificato perché inevitabilmente viene fuori dalle presentazioni precedenti un elenco di input che a questo punto voglio fare un minimo di inquadramento di quello che abbiamo visto questa mattina giusto anche per comprendere come leggere meglio quello che andremo a discutere adesso. La prima presentazione sostanzialmente era legata al consumo in particolare dell'intelligenza artificiale ma se vogliamo generalizzare un pochettino il concetto dell'ICT quindi l'ICT in generale non l'abbiamo visto in questo caso specifico ma in generale reti, comunicazione, elaborazione, storage ha bisogno di energia elettrica per poter funzionare. La seconda presentazione si inquadra in una visione completamente opposta cioè come l'ICT può dare un servizio alla gestione dell'energia, alla generazione, alla distribuzione eccetera. In questa presentazione noi parleremo di tutte e due questi punti di vista in qualche modo in modalità interscambiabile quindi a volte come l'energia ha un impatto sull'ICT e come l'ICT può aiutare l'energia quindi è una fusione di questi due aspetti. In particolare per chi si fosse perso le puntate precedenti io lavoro presso l'università di Palermo, sono un professore dell'università di Palermo però in questo caso vedete sto facendo questo talk come SIDS. SIDS è uno spin off dell'università di Palermo e tra poco vedremo anche un pochettino quali sono le caratteristiche di questo elemento. Quindi anche questo è un altro aspetto di interlacciamento, di una nuova filiera perché come avete sentito anche da parte di Bax Energy ma anche da parte del primo intervento c'è sempre un interesse a collegare gli aspetti accademici con gli aspetti di mercato, con la teoria, con la pratica e anche quello che è la ricerca con il mondo delle imprese. In questo caso lo spin off accademico che ho fondato e che si tratta di temi legati a blockchain, smart contract, elementi ICT in generale ma anche intelligenza artificiale, anche altri aspetti in qualche modo collaterali rispetto a queste che sono le tecnologie per noi centrali e in particolare in alcuni casi comprensione di ciò che mangiamo anche indossiamo, l'energia che consumiamo eccetera. Perché? Perché nasce con un focus specifico sull'agroalimentare e se voi andate a vedere appunto anche il sito di questo spin off che non è SIDS il nome dello spin off è SIDS e il sito non è SIDS ma è SIDSbit.com. Perché BIT? Perché è il nome dell'azienda e in più c'è BIT come l'unità dell'informazione ma anche come blockchain for information traceability quindi la tracciabilità dell'informazione con blockchain. Quindi è un nome che tiene conto del nome della piattaforma e tiene conto del nome della società e in più questo tipo di acronimo in fondo. Quindi uno spin off accademico gestione di qualità e di dati di qualità con prodotti di qualità. In questo caso che cos'è il nostro prodotto e il nostro processo? Quello di generazione e trasformazione dell'energia. Start up innovativa quasi quando è nato lo spin off eccetera eccetera. Quindi cerco di andare veloce su questo perché la mission è legata proprio a soluzioni ECT. Quindi tracciamento nell'agroalimentare, nel test sia la gestione documentale, gestione dei dati, conoscenza, la parte energy, la parte idrogeno. Perché? Tra un attimo lo vedremo. Noi seguiamo la filiera della ricerca partendo da quello che viene fatto in laboratorio per esempio presso un IPA e che viene fatto su TRL bassi. Io vedo tantissimi studenti vi do giusto un'indicazione di cosa significa TRL. TRL sta per Technology Readiness Lab, cioè il livello di prontezza, di avanzamento di una tecnologia. Se una tecnologia è TRL basso significa che può essere, se TRL è bassissimo, può essere solo un'idea, solo una proposizione. Se TRL è appena più alto e allora magari c'è una sperimentazione già fatta. Se è più alta ancora magari c'è una sperimentazione che avete pure visto voi e se è TRL 9 che è il valore più alto e allora probabilmente la state utilizzando anche se non lo sapete. Quindi questi i nostri valori chiave sulla tracciabilità, la fiducia, la trasparenza, elementi di cui abbiamo parlato per chi ha seguito in passato la mia presentazione legata per esempio alla blockchain e in particolare, qua vado un po' più veloce, blockchain, smart contract, elementi che riguardano da un lato piattaforme tecnologiche. Qua mi soffermo giusto un minuto per farvi notare una cosa. Nella presentazione di stamattina si parlava dell'energia che viene consumata dall'intelligenza artificiale. Qualche anno fa avremmo parlato dell'energia che viene consumata dalla blockchain. Perché? Perché in quel live cycle, in quel diagramma di Gartner che è stato presentato, oggi c'è l'intelligenza artificiale, qualche anno fa c'era la blockchain e domani probabilmente ci sarà un'altra tecnologia. Fortunatamente intendo. Perché? Perché l'evoluzione tecnologica non soltanto ci propone delle tecnologie sempre nuove e tra l'altro sempre nuove sfide poi applicative. Anche l'intelligenza artificiale, come è stato anche più volte spiegato, non è qualcosa di completamente nuovo. Ne parliamo da decine di anni. Il discorso OpenAI magari ha sbaragliato le cose perché ci ha portato ai sistemi distribuiti, la blockchain, anche che quelle avevano delle tradizie lunghissime, ma ci ha portato con i bitcoin a vedere l'apice di questo iceberg che emerge rispetto al sottofondo. Quindi in questo caso dicevo la blockchain, perché? Perché la blockchain è un elemento anche molto discusso legato proprio ai consumi energetici. Quindi blockchain e energia hanno una commistione, una correlazione, un legame che va anche oltre rispetto a quello di cui abbiamo discusso stamattina. Quindi capire anche, giusto una definizione, perché non voglia sembrare diciamo così in qualche modo fuori tema. La blockchain che cos'è? È una struttura dati. Ed è una struttura dati fatta in modo tale per cui i dati tra di loro sono collegati in un certo modo e prima di essere scritti, attenzione, nella maggior parte dei casi prima di essere scritti sulla blockchain, vengono verificati. Quindi quando una cosa viene scritta lì viene verificata non è soltanto perché io decido di scrivere un dato, ma faccio una verifica. Bene, la particolarità è che la verifica non la faccio io centralmente, voi vi dovete fidare di me, ma viene fatta in modo collegiale, distribuito e quindi c'è una verifica diciamo che mi consente di scrivere solo quando c'è una ragionevole certezza. Cosa sono gli smart contract? Gli smart contract alla stessa maniera con cui la blockchain prevede che dei dati vengano scritti con quel livello di garanzia eccetera eccetera, è l'equivalente però fatto sulla logica. Io devo fare un software che fa una determinata azione, una verifica, un calcolo, lo posso fare io e voi vi dovete fidare che il risultato che vi sto dando è effettivamente corretto. Se invece di farlo io sul mio software, sul mio computer, lo faccio su uno smart contract, lo facciamo in tanti, questo tipo di calcolo e poi verifichiamo con un algoritmo che si chiama consenso se siamo d'accordo o non siamo d'accordo. Quindi questo fatto che lo facciamo in tanti, la prima cosa è fiducia, la seconda cosa è trasparenza, la terza cosa è consumo, perché se l'abbiamo fatto in tanti significa che abbiamo consumato più risorse di quanto effettivamente non ci fosse bisogno. Quindi come in ogni cosa, non c'è trucco e non c'è inganno, se c'è un aspetto positivo, da qualche parte poi ci deve essere un aspetto negativo. Li hai che ci consente di risolvere i problemi? Quindi quando facciamo questo tipo di considerazione, piuttosto che demonizzare la tecnologia di per sé e valutare l'impatto energetico, dovremmo anche confrontarlo con quello di tecnologie, chiamiamole così legacy, cioè già consolidate, che utilizziamo quotidianamente. Faccio un esempio. Si parla della blockchain e si dice rispetto a che cosa dobbiamo considerare questo consumo? Dobbiamo considerare rispetto per esempio ai sistemi di transazione bancari che già utilizziamo quotidianamente, perché non è che quelli non consumano. Quindi parliamo dell'intelligenza artificiale, dobbiamo valutare i consumi rispetto a sistemi alternativi che mi consentono di ottenere lo stesso tipo di performance, perché fosse pure anche con il cinesino dietro la macchina, diciamo, o comunque, e dobbiamo fare, attenzione non voglio che questa frase venga presa come un elemento di, come posso dire, di discriminazione o assolutamente no, perché tra l'altro ho tantissimi amici diciamo nella parte del sud-est asiatico, quindi figuriamoci, però se l'intesa è io ho anche un essere umano che va a esercitare quell'azione, va a fare quella ricerca per me e mi dà i risultati alla stregua di come farebbe l'intelligenza artificiale, è lì il fatto che non ci si renda conto se io sto parlando con una macchina o sto parlando con un'intelligenza artificiale, richiama proprio al problema che si era posto Alan Turing dicendo se io non mi rendo conto di questa differenza e allora sono arrivato ad un punto per cui l'intelligenza artificiale ha una caratteristica tale da essere, da uguagliare in qualche modo le nostre performance. Quindi smart contract fa questo aspetto e la particolarità dello smart contract è il fatto che molte cose le può fare in autonomia, quindi se io dico che una certa quantità di energia deve essere trasferita e poi devo avere io un corrispettivo in cambio e allora questo può essere fatto automaticamente. Lo fa con una modalità anche che sia di fiducia perché? Perché se io questa stessa cosa ho bisogno di implementarla banalmente, proprio veramente in piccolo, faccio l'esempio proprio quello più semplice possibile, nel mio condominio io ho bisogno di fidarmi del fatto che chi ha fatto le letture, chi ha fatto la ripartizione, chi ha fatto un determinato serie di operazioni che poi determinano quanto effettivamente devo avere io come rispettivo sia fidato e trasparente. Aspetti di backup è secondario, però se io i miei dati li faccio girare su più macchine è vero che abbiamo quel costo aggiuntivo ma abbiamo anche una robustezza nei confronti di e che è una cosa che chiaramente non c'era bisogno della blockchain, l'abbiamo anche sul cloud, su altre tecnologie, però qua questo lo ritroviamo assieme a tutte le altre che dicevo. Saving, come ho detto che consumiamo di più, sì da un lato consumiamo di più, dall'altro in realtà abbiamo anche dei risparmi in termini anche di interazione con appunto elementi di fiducia distribuita che altrimenti mi vengono a costare parecchio. Di fatto la blockchain, le tecnologie distribuite di cui stiamo andando a discutere, sono delle cose che si sostituiscono a casi in cui c'è un elemento di centralizzato con fiducia forte e riconosciuta da tutti. Quindi se io sono un elemento di cui tutti quanti voi potete fidarvi, ci penso io, voi mi date dati, mi date logiche, mi date... e vi dovete fidare di quello che faccio. Quando questo non c'è, e chiaramente vi dovete assumere anche costi, perché se io faccio questa cosa per voi è chiaro che ne avrò dei costi da portare. L'accuratezza, anche questo deriva dal fatto che c'è una trasparenza in quello che viene fatto. Questa è la nostra mission principale e lì ora ci andiamo a richiamare e andiamo a intrecciare anche questo con elementi di energia, perché nella produzione primaria, quindi nel caso dell'applicazione agri-food, sto discutendo, la produzione primaria dal campo fino alla tavola o addirittura fino alle revisioni che i consumatori fanno, abbiamo la trasformazione, la conservazione di prodotti, il trasporto eccetera. La filiera vista in questo modo, noi la vediamo in una maniera che è completamente diversa rispetto a come viene vista una filiera di produzione e anche gli aspetti dell'energia che sottendono alle produzioni. Perché? Perché normalmente viene vista come se fosse un segmento, parto dal campo alla tavola e quello è il wording che voi sentire tipicamente quando in ambito Unione Europea parliamo di questo elemento di tracciabilità. Noi lo vediamo come un elemento circolare e tra parentesi abbiamo anche come spin-off, come SIDS e come Università di Palermo, dei progetti sulla sostenibilità. Quindi siccome si è parlato anche di sostenibilità stamattina ed è un tema ed è un concetto molto legato alle risorse energetiche, vi vorrei, permettetemi di fare un passo indietro e di dirvi che cos'è questa sostenibilità perché probabilmente non è chiarissima a tutti. Cioè la sostenibilità è la capacità di fare domani le cose che facciamo oggi senza avere grossi problemi, grosse difficoltà. Quindi se questa cosa la intendiamo in questi termini, sostenibilità può essere ambientale, cioè io quando faccio queste cose devo consumare un'energia tale che però mi consenta di fare queste stesse cose un domani, quindi approvvigionarci dal punto di vista dell'agri-food in questo specifico, la generazione dell'energia elettrica, senza intervenire troppo sull'ambiente perché se noi lo modifichiamo non lo potremmo fare più domani alla stessa maniera con cui lo facciamo oggi. E questo è legato al consumo di combustibili fossili, è legato al fatto che magari non abbiamo certa attenzione rispetto anche alle politiche e la gestione dell'energia anche sui singoli. Perché la professoressa Sanseverino ha fatto una nota sul primo elemento che era anche proprio quasi sociale. Cioè se io non mi rendo conto che ho una piccola responsabilità anche io come singolo nei confronti dell'energia che viene gestita e che poi in quota parte pure consumo e allora lì ci sono dei problemi un pochettino per tutti. Quindi vedete che alla fine gestisco catene di valore, catene di responsabilità, catene di consapevolezza. È in una visione un pochettino diversa perché qua vediamo un elemento di circolarità. Cosa significa? Noi dicevamo anziché il segmento che mi porta dal campo alla tavola, questi dati che vado raccogliendo punto per punto e che metto in blockchain si riportano anche indietro e ritornano queste informazioni anche agli attori che si trovano nella parte a monte della filiera. Perché questo tipo di informazione è importante? Vabbè qua la piattaforma come è fatta? Questo potrebbe essere anche un elemento di interesse probabilmente in futuro per altre discussioni di approfondimento. Di fatto c'è una parte più legata agli aspetti geografici, una parte più legata agli aspetti logici, cronologici, una un pochettino più informativa. Però questo tipo di piattaforme mi consente di realizzare dei servizi partendo da una cosa che in questo momento sembrerebbe un pochettino fuori dal contesto e che invece in questa slide lega un pochettino anche le motivazioni per cui questo talk è fatto all'interno di un contesto del Linux Day, dell'open source eccetera. E lo faccio con una cosa che sembra assolutamente antiquata. È fuori luogo perché parla di aspetti legati alla sicurezza e alla sicurezza addirittura come in questo caso militare. Perfetto. La considerazione che vi faccio è la seguente. Parliamo di dati, parliamo di energia, ma un principio inventato da questo studioso che si chiama Kirchhoff, da non confondere con Kirchhoff, questo studioso diceva un principio fondamentale degli aspetti di sicurezza deve essere il fatto che la logica con cui vengono cifrati i dati, con cui vengono prodetti, vengono fatte le elaborazioni eccetera eccetera deve essere nota a tutti, compreso quindi di conseguenza ad eventuali attaccanti. Com'è che si ottene questo e come si sposa con il discorso del software libero? Con il fatto che se noi abbiamo un software open source, quindi anche trasparente dal punto di vista di come è fatto, io riesco a vedere se effettivamente ci sono problemi, con il microfono ci sono, se ci sono, non solo, sì sì proprio è andato, non solo legati per esempio alla, vediamo un pochettino se va meglio così e non solo all'algoritmo, quindi cosa deve essere fatto, ma anche all'implementazione che significa io posso avere un logica che è perfetta, sicura, poi l'implementazione di quella logica, ho fatto un erroruccio magari in una riga di codici, ho fatto una cosa pensando che potesse andare bene, quindi una distrazione e quindi non è più sicuro, ma non per la logica di per sé va benissimo, ma per l'implementazione che ne ho fatto. Quindi open source in questo caso, e questo è un elemento aggiuntivo rispetto già a quello che è stato detto anche in maniera molto piacevole e bella da chi mi ha preceduto di Bax Energy, cioè il rapporto che c'è tra il software libero e l'ambito per esempio Energy, in questo caso vi dico il rapporto che c'è tra il software libero e gli aspetti di trasparenza e quindi che ha di nuovo a che fare con la blockchain di cui parlavo. Vediamo innanzitutto un piccolo scenario in cui SIDS in particolare va a prendere quello che è un'esperienza fatta all'interno di un progetto precedente e lo porta un pochettino avanti, per esempio la creazione delle comunità energetiche. Prima di spiegarvi cos'è la creazione delle comunità energetiche voglio spiegare cos'è una comunità energetica, giusto per inquadrare un pochettino il problema. Io in questo momento ho la necessità dal punto di vista di chi fa distribuzione dell'energia elettrica o la trasmissione su lunga distanza, ho la necessità di avere un bilanciamento continuo tra l'energia elettrica che viene prodotta e l'energia elettrica che viene consumata. E questo è stato detto in maniera molto chiara da Bax Energy quando diceva se io produco in un momento in cui non c'è consumo addirittura ho un prezzo negativo perché devo essere scoraggiato dal produrre, perché devo cercare di bilanciare le due cose. Ora per essere certi di questo bilanciamento posso intervenire dal lato della produzione, per favore non produrre, oppure posso intervenire dal lato dei consumi, per favore consuma di più, è strano come consuma di più, stiamo facendo il risparmio energetico e vengo invogliata a consumare di più, no consuma di più adesso che poi domani dovrai risparmiare, quindi consuma di più adesso significa fai uno storage nelle tue batterie, metti da parte questa energia non necessariamente sotto forma elettrica o elettrochimica ma come in altri progetti seguiti da appunto i colleghi di ingegneria elettrica, mettila per esempio questa energia sotto forma termica nei boiler di casa tua, quindi di fatto tu accenderai comunque lo scaldacqua elettrico, magari non ce ne sono più tanti, dicevamo in Vietnam per esempio ancora funzionano in questa maniera e quindi io surriscaldo l'acqua e sto immagazzinando energia in un momento in cui c'è una sovrapproduzione, poi la utilizzerò, tanto c'è un'inerzia termica abbastanza lunga, la utilizzerò quando è che mi serve. quindi cos'è in tutto questo la comunità energetica? Io se dovessi modulare questo carico secondo le necessità della rete e dovessi farlo chiedendo a ciascuno di voi quando è a casa, aumenta il condizionatore? Perché aumentare? Perché magari raffresco un pochettino adesso che tra mezz'ora ho un problema con la rete perché già prevedo, vi ricordate l'elemento previsionale sul fotovoltaico, io non posso, sono fonti non dispacciabili, non regolabili, non posso dire a fotovoltaico producimi di più perché se c'è la nuvola lui produrrà quello che può e quindi di conseguenza l'unica cosa che posso fare per mitigare questo tipo di effetto è di anticipare, prevedere e mettermi diciamo al sicuro garantendo un approvvigionamento energetico da un'altra parte oppure chiedendo ai consumatori di ridurre il carico in quel momento. Ora per poter fare questo non lo posso fare con ciascuno di voi, ho bisogno di aggregare tutti quanti questi prosumer perché voi diventate prosumer laddove avete sia la parte di consumo che di produzione, prosumer è una parola, un neologismo che sta a indicare producer e consumer, quindi io sono produttore consumatore di energia, sono tutt'uno in questo punto di vista e non solo, sono io uno, ma se vi metto tutti assieme e quindi a un certo punto dal punto di vista di Enel, dal punto di vista di Terna, quindi distribuzione, trasmissione eccetera, io parlo con una persona sola, prendo come rappresentante lui perché magari è seduto in prima fila, mi sta pure simpatico eccetera eccetera, dico lui è rappresentante, mettetevi tutti quanti d'accordo per come gestire i vostri consumi, però per favore dalle 10 alle 11 riducete perché se no io non ce la faccio, io a fornire questo servizio di rete. Quindi la prima cosa del questo elemento della comunità energetica è proprio il senso di appartenenza tutti assieme per cercare di fare qualche cosa di buono per la rete. Vi rendete conto che questo già solo solo per la creazione, quindi non parliamo degli aspetti tecnici che poi andremo a vedere in dettaglio, ma il tempo vedo che scorre inesorabile, a prescindere dagli aspetti tecnici prima ancora c'è un problema, la dobbiamo formare questa comunità e voi vi trovate seduti uno accanto all'altro ma probabilmente chi vi sta a fianco non lo conoscete neppure, se lo conoscete magari non vi fidate al 100%, non pensate che possa essere una persona affidabile dal punto di vista della ripartizione, poi di questa bolletta che poi dovremo un pochettino, e qua già ci sono delle risatine tra chi effettivamente si conosce e dice ma la bolletta non la vorrei completamente condividere. Quindi la prima cosa che devo fare è creare questa comunità perché aggregare tutti quanti significa dare una possibilità di modulare il carico in maniera significativa, perché io non sto agendo solo sui 3 kilowatt di potenza impegnata del suo impianto domestico, ma sto agendo, non lo so, saremo qualche centinaia di persone e allora sto agendo già su centinaia di kilowatt, in generale si fa su megawatt di potenza e quindi mandando un segnale ad un rappresentante che poi suddivide e lì c'entra la blockchain, l'avete capito, ma c'entrano in generale a prescindere dalla blockchain le tecnologie di rete per, di rete, di elaborazione, di condivisione, le tecnologie ai siti in generale, anche di intelligenza artificiale. Perché? Perché devo capire tante cose, devo capire quanto ciascuno di voi è disponibile a ridurre o aumentare il carico quando servirà, devo capire se la vostra disponibilità viene effettivamente messa in esercizio, quando serve, perché ad essere disponibili, siamo tutti bravi, poi quando serve, io no vabbè ma devo asciugarmi i capelli che faccio, non faccio il phon che è giusto, c'era la nuvola che passava del fotovoltaico, io i capelli li voglio asciugare adesso e quindi poi magari quella disponibilità non è confermata, eccetera. Quindi ritorniamo qua a noi, dobbiamo crearle queste comunità, se voi vedete qua in questo puntatore vediamo delle comunità energetiche in aree geografiche completamente diverse, arriva il primo utente e in qualche modo dice io voglio creare una comunità, ma tu da solo non la puoi fare, sei troppo piccolo, aspetto che mi arriva anche il secondo, arriva il terzo e così via, quindi io nell'arrivo di queste persone che hanno intenzione di creare la comunità vedo un valore che posso portare all'attuazione della comunità, non appena la somma di tutte le potenze che vengono gestite da questi utenti arriva ad una certa soglia, non appena, e questi devono essere tutti utenti che si trovano nella stessa area, perché tecnicamente si devono trovare dietro una cabina primaria, se non dietro una cabina secondaria è una cosa ancora più restrittiva in alcuni contesti, adesso è stato pure un po' allargato questo tipo di requisito, cioè significa che l'energia che arriva alle vostre case deve arrivare attraverso un flusso unico, uno strumento di infrastruttura unico, quindi io vi aggrego soltanto se passate, quell'energia passa in qualche modo su determinati elementi. Quindi le richieste di giungere e di essere coinvolti in questa comunità energetica il prosumer la fa iscrivendosi sulla blockchain, quindi è un'aggregazione che viene fatta in modo appunto estemporaneo, si dice proprio dal basso, io voglio partecipare, non ho bisogno di andare da questo garante a dire voglio farlo e poi qualcuno sopra di me genererà o mi deciderà di accogliermi o meno. Le richieste vengono aggiunte sulla blockchain nel tempo, quindi io le vado raccogliendo e le vado collegando, ma non solo, ci dovrà essere qualcuno, ad esempio uno smart contract, quella logica di cui parlavo, che ogni volta che mi arriva uno mi fa un conto e mi dice ma aspetta a che potenza siamo arrivati all'interno di quella cabina primaria? Ma niente siamo ancora a 10 kilowatt, vabbè, niente ancora siamo all'alba, invece siamo arrivati quasi al megawatt, bene siamo arrivati allora qua nella parte destra, siamo più vicini alla parte destra, appena arriviamo al valore che è previsto dalla legge, perché la norma proprio mi impone determinati valori, io posso attivare la comunità energetica, quindi già questo tipo di diagramma molto semplice mi dice che prima ancora di poterci lavorare con la comunità io ho bisogno di crearla. L'ordine cronologico è pure importante, è fondamentale perché il fatto che io arrivo prima significa che devo aspettare di più, l'ultimo che arriva, arriva e viene servito, perché? Perché si è creata la comunità, tutti partiamo e incominciamo a risparmiare, chi è arrivato prima ha espresso un'intenzione prendendosi anche gli obblighi e assumendosi in qualche modo un costo del fatto dell'attesa e che quindi viene remunerato potenzialmente anche in modo diverso. Qua c'era il ruolo degli smart contract, quindi il ruolo degli smart contract serve per definire regole di partecipazione, diritti e doveri, criteri di remunerazione, eccetera. Vediamo un pochettino come le radici di questo discorso affondano in un progetto che è stato seguito ad un IPA e che è un progetto di un IPA di cui la professoressa Sanseverino è responsabile scientifico e che vede l'aggregazione di questi prosumer nel caso di eventi di demand e response. DR sta per demand e response. Anche lì, che cosa significa demand e response? Io, Enel, io Terna, ho un problema a fare transitare quell'energia per quel periodo di tempo e quindi chiedo, demand, di rimodulare questo tipo di carico sulla base delle mie necessità. La risposta qual è? Il fatto che ciascuno di voi dice ma sai io gli voglio dare una mano d'aiuto perché effettivamente non solo vede un aspetto etico ma magari c'è una remunerazione che mi torna indietro. E a questo punto questo è l'evento di demand e response. Io chiedo di modulare il carico e avevo le comunità energetiche create e la blockchain mi consente anche di gestire questo aspetto in maniera trasparente. Cosa significa? Che l'abbiamo risparmiato tutti, abbiamo dato una mano, ci viene messo a disposizione un certo importo, perfetto, come ce lo dividiamo? Non può essere in parti uguali perché abbiamo contribuito in modo differente, quindi deve essere magari proporzionale al nostro contributo, semplicissimo, facciamo una proporzione, ma non è proprio proporzionale al nostro contributo perché oltre al nostro contributo dobbiamo tenere in considerazione il contributo potenziale, quella capacità che mettevamo a disposizione ma che solo per essere messa a disposizione ci deve essere remunerata. Ci sono dei problemi, diciamo così, in qualche modo insidi in questo aspetto, che in quel progetto sono stati risolti e che adesso stiamo portando come spin-off accademico anche più avanti, a TRL più alti, vi dicevo. Un problema di questo è la privacy. Se io conosco i consumi di ciascuno di voi e mi serve conoscerli se voglio aggregare i vostri contributi di consumo, io posso violare in qualche modo la privacy perché io so che uno degli organizzatori di qua al Free Circle la mattina alle 8 è uscito per venire qua a fare questa conferenza e quindi non sta consumando a casa e di conseguenza se io fossi una persona malintenzionata, dovesse andare a casa sua per andare a fare qualche furto o qualche cosa, ci andrei quando lui è impegnato altrove. Quindi ci sono degli aspetti di privacy che vengono gestiti anche con un sistema distribuito in maniera tale da non mettere necessariamente in chiaro questo tipo di informazioni. Bene, tutto questo come vedete è aspetto ICT che dà un contributo per l'energia ma come lo dà un contributo? Non direttamente nella produzione ma nell'ottimizzazione, nella gestione delle risorse e nel determinare come determinate cose devono essere fatte. Andiamo a vedere il caso di studio di questo progetto Blorin qua c'è pure l'immagine del programma in cui è stato inquadrato questo progetto. questo progetto è stato effettuato dal punto di vista dei pilot, cioè della sperimentazione in due piccole isole siciliane, Lampedusa e Favignana. E probabilmente, tipicamente uno pensa e dice immediatamente a me guarda, delle isole bellissime e sicuramente c'era l'aspetto anche gradevole del fare la sperimentazione in queste isole ma la motivazione principale è il fatto che nelle piccole isole il sistema energetico è più fragile. Perché? Perché, come già veniva detto anche da Bax Energy questo tipo di introduzione di ICT, questa introduzione delle fonti energetiche rinnovabili significa da un lato che noi consumiamo meno energia da fonti fossili le prendiamo da fonti rinnovabili ma siccome le fonti rinnovabili non sono prevedibili io allora mi sto mettendo nelle mani di qualcuno che non riesca a prevedere il sole, il vento, eccetera. E quindi cosa devo fare per riuscire un pochettino a mitigare questi effetti? Da un lato dicevamo le comunità energetiche e quindi il carico dall'altro anche avere a disposizione delle riserve quindi anche i vecchi generatori con fonti fossili che non le faccio intervenire fino a quando non mi trovo proprio perso e da lì interviene un altro fenomeno che abbiamo avuto anche modo di discutere di recente e che vi potrà sembrare controintuitivo cioè quanti di voi per esempio hanno trovato controintuitivo che io produco energia da produttore e anziché essere remunerato per produrla mi viene chiesto un costo perché la sto producendo, sto dando fastidio alla rete c'è un altro elemento controintuitivo che è quello del prezzo la gestione del prezzo dell'energia dipende da tantissimi fattori e in particolare dipende anche dal fatto dell'introduzione delle fonti energetiche rinnovabili perché? Perché da sole, soprattutto all'inizio non erano abbastanza mature e anche abbastanza sostenibili da un punto di vista economico, attenzione non ambientale per cui se non c'era la sovvenzione dello Stato non era conveniente andarsi a fare il fotovoltaico e quindi lo Stato con un obiettivo un pochettino più ampio dice vabbè io cerco di agevolarti in modo tale che tu possa effettivamente fare il bene dell'ambiente, della produzione eccetera eccetera quindi interviene in questo modo interviene in questo modo però, vi dicevo, c'è una contropartita tecnica cioè io poi ad ogni kilowatt di fotovoltaico devo aggiungerci una frazione per cercare di ottemperare i problemi del fotovoltaico quando questi si vengono a presentare bene, questo aspetto, dicevo, nelle piccole isole è ancora più rilevante perché la rete che può fare fronte con una certa inerzia a questo tipo di problemi è molto piccola, è proprio quella dell'isola io nell'isola ho il generatore, la centrale elettrica, ho i carichi è tutto lì in Sicilia, a Malta, anche se Malta è per esempio una piccola isola in realtà è collegata al resto del continente attraverso un cavo sottomarino che la collega alla Sicilia e poi la Sicilia è a sua volta collegata al resto del continente e quindi di conseguenza se c'è un problema io attingo comunque a delle risorse energetiche dalla rete che la possiamo immaginare in questo caso come se fosse un grande calderone perché? Perché più siamo questa è una legge dei grandi numeri che rende le cose anche abbastanza semplici da gestire per chi sta seguendo magari materie come, non lo so, teorie dei segnali oppure tanti piccoli contributi, molto piccoli quando si somma nel numero elevato mi danno un contributo che è abbastanza prevedibile quindi tanti contributi imprevedibili quando però li vado sommando quindi la rete diventa qualcosa di molto più prevedibile molto più robusto quanto più è grande in un'isoletta piccola chiaramente questo non c'è quindi arrivo con il fotovoltaico e posso creare dei problemi nella rete perché le piccole isole, appunto questo è un elemento particolare i generatori addirittura a diesel cioè come l'immaginate il generatore a Favignana cioè io non ho messo l'immagine nelle slide ma è come il motore di una macchina molto molto grande in una stanza enorme dove se entratevi dovete mettere proprio le cuffiette perché altrimenti gli scoppiano i timpani e là dentro c'è un meccanismo automatico che fa da regolazione come se io mettessi in continuazione il piede sull'acceleratore e lo togliessi nel motorino lo faccio a seconda se trovo la salita o se trovo la discesa quindi nella discesa devo decelerare in salita devo dare più gas là invece l'acceleratore viene regolato automaticamente sulla base del fatto che qualcuno da qualche parte nell'isola ha acceso una lampadina, ha acceso il ventilatore, ha acceso qualche cosa e quindi da un'altra parte qualcuno deve immettere più potenza nella rete tutto questo dicevamo va fatto con elementi ICT ma quali sono i servizi che possono essere erogati? qua abbiamo il demand e il response cioè io devo fare la lavatrice la lavatrice la devo fare adesso però in questo momento il carico della rete non è tale da potermi garantire questo ulteriore flusso di energia quindi mi viene detto guarda la puoi fare più tardi farla più tardi si chiama peak shaving cioè io questo picco che vedete a destra e che mi porterebbe ad un problema con la rete lo taglio, faccio un'arrasatura e poi magari lo consumerò quel contributo di energia magari successivamente un altro elemento interessante anche per le comunità energetiche è l'autoconsumo e vediamo un pochettino di appunto sì noi appena completiamo poi diciamo ci saranno le slide a raccontarvi un pochettino tutto quello che non ho potuto fare diciamo in questo talk l'autoconsumo perché è importante gestire l'autoconsumo? perché in una comunità energetica è un elemento chiave se una comunità come possiamo essere noi che in questo momento ci troviamo sotto la cabina primaria ma non perché siamo temporaneamente qua perché le nostre case, i nostri pod, i nostri contatori sono sotto la stessa cabina allora se noi siamo tali da consumare l'energia che produciamo significa che lui la consuma lui che è qua vicino la sta scusate lui la genera lui che è qua vicino la sta consumando non richiediamo contributo della rete perché? perché normalmente quando lui la produce e non c'è consumo significa che lui la deve immettere in rete quando lui la consuma e non c'è diciamo produzione significa che lui la deve prelevare dalla rete quindi la rete sta lavorando se invece facciamo tutto localmente non c'è il lavoro della rete la scarichiamo e quindi c'è un vantaggio e questo vantaggio ci viene riconosciuto in termini economici ma cosa significa autoconsumo? non è che può significare che lui la produce la mattina l'energia e lui la consuma la sera perché significa che l'ho data alla rete e poi la sera l'ho ripresa deve essere un elemento che avviene contemporaneamente questa produzione e questo consumo deve avvenire con specifiche esigenze anche requisiti temporali quindi c'è qualcuno che mi deve garantire che quest'autoconsumo avvenga in quella maniera quindi chi sta a controllare nel tempo che lui ha prodotto e che lui ha bene la blockchain con gli smart contract fanno queste cose e il tempo a mia disposizione è finito quindi mi fermo qua vi dico soltanto che su questi temi ci sono tantissimi elementi di lavoro sia dal punto di vista accademico e come è successo già l'anno scorso vi dico che quando ho visto il video dell'Unipa mi sono emozionato perché era comunque bello ed ha qualche cosa che secondo me ciascuno di noi ci può fare riflettere perché anche quello è tra virgolette elemento di opportunità per il territorio così come free circle così come tutto quello che insiste nel territorio secondo me va valorizzato alla fine di fare un come posso dire di rendere questo tessuto un pochettino più e questo territorio un po' più fertile rispetto a determinate attività e quindi di conseguenza giusto per concludere ci sono opportunità dal punto di vista accademico per chi sta studiando per chi studierà nell'università perché magari ci sono studenti delle scuole superiori perché ci sono aspetti più teorici ci sono opportunità con gli spin-off accademici io appunto vedo che Xenegi non c'è più è andato via però quel tipo di propensione al forse magari è nel nelle seconde file e quel tipo di propensione alla collaborazione con gli spin-off accademici io la sposo proprio al 100% come tipo di visione perché è qualche cosa che insieme possiamo fare per il bene di questo territorio e da lì vi ringrazio diciamo insomma ci sentiremo grazie per Luigi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti